buongiorno eccoci qua siamo di nuovo insieme speriamo di essere tanti perché spero che a mano a mano in cui vi propongo nuove cose e voi le appreziate che si allarghi questa compagnia oggi gnocchi di patate di patate di montagna con crema di gorgonzola con una copertura di gorgonciale croccante in crema di zucca gialla e siccome il piatto è mi sembrò poco colorato in fondo la crema gialla di zucco ha appoggiato delle gocce di rapetta rossa per prima cosa mettiamo a restare le patate perché comunque ci vuole un lasso di tempo nel frattempo facciamo anche tutte le altre cose allora rigorosamente acqua fredda le patate le ho già lavate in modo da togliere tutta la terra li appoggio dentro la pentola vado nella i fuochi un pizzico di sale grosso e lascio bollire a questo punto mi occupo della della zucca tolgo la scorza della zucca la zucca è circa 300 grammi questa è pronta ma che mi occupo prima dello scalogno perché quello che metto subito a cuocere nel frattempo che taglio la zucca cerco di tagliarla più sottile possibile perché così fa prima la letto mio tegame vi aggiungo circa 50 60 grammi di burro e vado ai fornelli quello piccolo perché ho bisogno di far stufare lo scalogno lentamente per non far bruciare il burro ed evitare di aggiungere se possibile altri liquidi di cottura nel frattempo ritorno alla mia zucca gialla e la taglio abbastanza sottile così si cuoce anche prima mi porto avanti facendo ammorbidire la rapetta rossa io l'ho comprata già cotta perché me ne serve veramente poche quella che avanza la mangio in insalata quindi prendo un piccolo tegamino la prendo la metà di questa quindi veramente minuscola quello che mi serve perché è solo una decorazione intorno al piatto e per cuocerla al meglio metto veramente un pochino d'acqua perché ha bisogno di un liquido di cottura dove cominciare a sciogliersi controllo il mio scalogno wow eccolo così mi piace dorato morbido porto direttamente questo tegame al mio tagliere e vi aggiungo la zucca e la riporto sul fuoco è chiaro che per cuocere la zucca il liquido che si è formato non è sufficiente quindi o aggiungete del brodo vegetale o aggiungete un pochino di acqua ecco qua le mie patate sono pronte ho preso la tavola per impastare gnocchi uno schiacciapatate farina doppio zero per impastare su quel solo quello che serve e una farina di grado duro era solta e soltanto la uso soltanto per fare in modo che i gnocchi non non si attaccano quindi adesso inizio il lavoro carino allora patata è un po scotta non molto ma preferisco così sono delle patate di montagna quindi non sono neanche innaffiate è chiaro che anche la farina tra pochissima sono quella che basta per raccogliere per impastare le patate ecco qua di farina ho detto quanto basta non so se ho detto che le patate sono circa 400 grammi quelle belle 4 patate grosse poca farina vediamo un altro po questo dovrebbe bastare quasi tutto il nostro impasto bellissimo ancora un po ecco fatto veramente pochissimo patate meravigliose e impasto uguale ecco qua pronti un po di farina ok iniziamo pezzettino di impasto lo allungo io ho la mia spatolina e comincio a tagliarli a questo punto li prendo li appoggio sul vassoio di carta e li spolvero con un po di farina di grano duro in modo che non mi si appiccicano allora i nostri gnocchi sono pronti comincio a spegnere il fuoco sotto la rabbettina controllo la zucca è perfetta quindi adesso metto un po di sale non molto perché abbiamo comunque un gorgonzola poi è un pizzico di pepe due secondi che assorbe il sale e il pepe e poi spegniamo l'acqua per i gnocchi nel frattempo che bolle l'acqua io preparo le varie creme adesso prendo un frullatore travaso la mia zucca e vado a mixare tutto in questo modo la nostra crema sarà controllo voglio che sia molto cremosa eccola che colore stupendo veramente meraviglioso e ora andiamo con la rapettina ecco qua ecco qua l'acqua quasi pronta quindi è quasi ora di cuocere i nostri gnocchi che è ora di mettere il nostro il nostro borbonzola del tegame pizzico di burro appena appena perché comunque già lo abbiamo dentro la crema di zucca e il gorgonzola è già cremoso per conto su poi prendo appena appena la buccia del bordo e poi tutto nel tegame vado sul fuoco e lo faccio andare veramente piano copro ok controllo eccolo qua si sta sciogliendo a mano a mano ma preferisco spegnere il gas perché comunque col calore continua a sciogliersi lo copro lo lascio qui quindi a questo punto tagliamo il nostro gonciale a striscioline sottili mettiamo nel nostro padellino piccolo piccolo ecco sempre olio lo mettiamo sul fuoco perché da solo si raggrinzisce fino a diventare croccante la nostra acqua bolle metto giù un pizzico di sale aspetto un attimo allora accendo di nuovo il gas a questo punto sotto il gonciale perché con calma si deve raggrinziere sale si scioglie a questo punto detto giù i miei occhi veloce una mescolata velocissima incopro ecco i nostri macchi a galla e li prendo così saltiamo leggermente in padella e assembliamo il nostro piatto ma anche il gonciale non è niente male un cucchiaio di crema di zucca con scalogno e burro e un po di pepe bianco poi abbiamo i nostri gnocchi al gorgonzola poi abbiamo le nostre gocce di rapetta rossa e in ultimo cosa succulenta che abbiamo decorazione finale una foglia di salvia dopo tanta fatica un buon bicchiere di bianco questo segno secondo me favolosi buon appetito alla prossima